Benvenuti! Ciao a te che ci segui da casa, da Costanza, Giorgia, Giulia. Siamo pronte ragazze? Oggi abbiamo da inventare una bellissima storia e utilizzeremo la nostra simpaticissima Ina la Borsina. Però per fare questo ci dobbiamo concentrare perché abbiamo da inventare una bellissima storia e dobbiamo riscaldare la nostra fantasia. Siete pronti? Sì! Ci facciamo il nostro riscaldamento velocissimo e ritmo? Vorrei sentirlo da voi. Allora, come funziona il nostro riscaldamento della fantasia? Innanzitutto occhi... Chiusi! Occhi chiusi, pronti? Poi testa sulla spalla destra, testa sulla spalla sinistra, testa indietro, testa in avanti, occhi super spalancati. Diamo il via... Alla fantasia! Ok ragazze, come già vi ho anticipato prima abbiamo bisogno della nostra Ina la Borsina piena di oggetti magici inventa storie perché oggi voglio inventare una storia con gli oggetti che si trovano qui dentro. Sei pronta, Giorgia? Sei pronta, Giulia? Sì! Allora, Giorgia, passo la borsa a te e inizi a pescare qualcosa. Chissà, sono curiosa di sapere cosa uscirà mai. Ah, abbiamo due calzini! Bene! Giulia, tocca a te e ti dico una cosa importante. Vorrei che tu prendessi non uno, non due, ma va! Dai, oggi esageriamo tre oggetti, vai! Perché con questi calzini vorrei, vorrei... Hai già preso, sei stata velocissima! Ok, vuoi passarmi la borsa, Ina? Prego Ina, ritorna al tuo posto. Eccoci, allora siamo pronti. Cos'hai preso tu, Giulia? Allora, hai preso una barca a vela, poi hai preso un orsacchiotto e un coniglietto. Abbiamo a disposizione due calzini, mamma orsa con il suo amico coniglietto e abbiamo una barca a vela. Allora, avete già qualche idea voi? Io qualcosa vorrei già pensare con voi, tipo, non so, una spiaggia. Che ne pensate? Anche io l'avrei forse già pensato. Mi fa piacere. Allora, quasi quasi, anziché iniziare io. Vuoi iniziare tu, Giulia? Sì. Proviamoci, proviamo, dai. Allora, c'era una volta. C'era mamma orsa con il suo amico coniglietto, c'era che si andava a fare il vano e poi trovavano un calzino. Ah, bene, mi piace, sapete come idea? Allora, abbiamo un bel giorno, su una spiaggia bellissima, abbiamo mamma orsa che sta facendo il bagno lì sulla spiaggia e si sta divertendo. Aveva con sé dei calzini nella borsa e, perché ovviamente quando si cammina ci si mette le scarpe ma ci si mettono anche i calzini. Succede che di questi due calzini, me li dai così li mostriamo questi simpatici calzini. Guardate mamma orsa che bei calzini che aveva ai piedi. Beh, diciamo un po' caldi. Però comunque sono simpatici, proprio da mamma orsa. Ad un certo punto succede che un calzino si perde. Quando mamma orsa finisce di fare il bagno, vuole vestirsi, si rende conto che ne ha uno solo. E quindi cosa fanno? Mamma orsa e il comiglietto vanno a cercare il calzino perso. Perché ovviamente mamma orsa non può tornare a casa solo con un calzino. E quindi iniziano il loro viaggio. Ovviamente per essere più veloci cosa fanno? Giulia prendono una, ce l'hai in mano, cosa prendono? Una barca a vela. Prendono una barca a vela per essere più veloci e iniziano a cercare il calzino. Dove lo vanno a cercare questo calzino? E l'è andato a finire col vento nell'acqua. Ah, quindi il calzino era volato via nel mare. Iniziano a usare la loro barchetta e vanno nel mare a cercare il calzino. E qui fanno una scoperta, e cioè il calzino. Chi lo aveva preso? Dai, pensiamo a qualcosa. Chi aveva preso il calzino? L'aveva preso il polipo. Ah, perché abbiamo il polipo ladroncello. Cosa doveva mai farci un polipo con un calzino? Giorgia? Per apparecchiare la sua mini tovaglia. Ecco perché il polipo si era impossessato del calzino. E questo lo scoprono quando arrivano a dei pressi della casa del polipo. E quindi cosa succede? Giulia, cosa fa? Cosa dice mamma orsa? Come vi fate a prendere il mio calzino? E il polipo risponde. Sono arrivato quattroquattro sulla spiaggia, ho allungato nella sabbia un mio tentacolo nella tua borsa e sono riuscita? A prenderlo. A prendere il calzino. E allora il cognetto dice. Scusami ma puoi spiegarmi cosa devi mai fare con il mio calzino? E il polipo cosa dice? Per apparecchiare la mia mini tovaglia. Mamma orsa dice. Però, caro polipo, devo dirti una cosa. Io del mio calzino ne ho bisogno. Posso regalarti io una tovaglia? E il polipo cosa dice? Certo, ne avrei proprio bisogno di una tovaglia. E il polipo dice. Io ti restituisco il calzino. E tu mamma orsa cosa fai? Mi dai la tovaglia. Mi dai la tovaglia. Mamma orsa dice. Va bene, però adesso qui in mezzo al mare non so come fare perché ho lasciato la mia borsa sulla spiaggia. Te la posso realizzare qui, velocemente, una tovaglia? Il polipo dice. Ok, va bene, facciamo così. Adesso ti prendo dal fondo del mare che cosa? Delle? Delle alghe di nutrizione per fare la tovaglia. Dai, è un'idea bellissima, mi piace tantissimo. Bene, quindi pensano di prendere delle alghe e dei fondali. E delle conchie per decorare. Oh, è una cosa bellissima. Quindi il polipo dice. Va bene, ti restituisco il calzino per tu, cara mamma orsa. Intrecciami delle alghe, decorami con delle conchiglie e realizzami la tovaglia più bella che si sia mai vista. Così il polipo scende sull'acqua. Cosa fa? Le prende. Prende cosa? Le alghe e le conchiglie. Le alghe e le conchiglie. Le porta sulla barca a vela e mamma orsa inizia a fare cosa? A intrecciare la tovaglia. E poi dopo ce la decora con? Le conchiglie. Bene. Realizza la tovaglia più bella, più verde e smeraldo che si sia mai vista e la regala al polipo. Il polipo in cambio? Io adesso il suo calzino. Il calzino. Mamma orsa è contenta. Torna a terra, rimette i calzini. E succede che in un altro bel giorno c'è un sub che va a fare una gita con la sua maschera nel mare. Quando torna a terra, dice ai suoi amici, vi devo dire una cosa importantissima. Ho fatto una scoperta bellissima nella tala di un polipo. Indovinate cosa ho visto? Dai, indovina anche tu da casa. Secondo voi? Una tovaglia di alghe con decorazioni di conchiglie. Bene. Il sub quel giorno rimane assolutamente sorpreso perché scopre per la prima volta che nel mare esiste una tovaglia fatta con le alghe e le conchiglie. Grazie a quella famosa mamma orsa che aveva regalato la sua tovaglia di alghe al polipo. Bene, abbiamo inventato la nostra storia. Ragazze, che titolo diamo? La mamma orsa e il suo amico coniglietto che hanno perso il casino e hanno inventato e realizzato una tovaglia di alghe e di conchiglie per il polipo. E quindi, molto più velocemente, io vi proporrei mamma orsa e la tovaglia di alghe. Beh, con la fantasia anche oggi abbiamo realizzato una storia davvero, davvero simpatica. E poi si sa, tutte le mamme orse sono bravissime a lavorare e a intrecciare lana. No, da oggi è scoperto una nuova cosa. Le mamme orse sono bravissime a intrecciare e a lavorare fili d'alga e la tovaglia di alghe. E adesso ci salutiamo leggendo il nostro bel titolo. Ciao da Costanza, ciao da Giorgia, ciao da Giulia, con la nostra bella storia intitolata... Mamma orsa e la tovaglia di alghe. Ciao! Ciao!